appena laureato e avviere e non non ho voluto fare l'ufficiale mi piaceva fare militare con i ragazzi che insomma sono sempre stato così a popolare per cui non mi interessava il comando mi interessava vedere le cose come andavano al casamento sono stato benissimo parte che probabilmente sono stato anche fortunato c'erano degli ufficiali molto bravi ricordo che mi mangiavo bellissimo al casale ogni tanto uscivamo in uscita la carne era eccezionale il brasato tutto i gagnolotti i cromiri non parliamone poi era un'epoca in cui si beveva anche bene qua non si beve male adesso ormai è passata quell'epoca se la ricorda no ecco questa è una cosa infatti quando è partita questa richiesta di concerto qua mi sono documentato sull'eterno e ho detto guarda che cosa mi era sfuggito nella vita questa cosa qua orribile dell'eterno e allora mi sono anche dispiaciuto infatti l'ho scritto sull'articolo vorrei tornare indietro nel tempo e rifarle e avere più coraggio per queste cose qua perché non non avevo realizzato quanto fosse deleteria orribile una scelta del genere ma d'altronde noi siamo in mano dobbiamo dobbiamo mettere sull'eterno siamo in mano a una paneconomia che non guarda in faccia nessuno non parliamo poi di globalizzazione una paneconomia in cui ho scritto come dico da tanto tempo non importa chi sta male chi muore l'importante è chi guadagna per mille dell'umanità è piena di soldi è piena di potere e il 99 99 per cento no quindi e questo è uno stato di cose che non può proseguire se le dicessi che le caserme in cui lei ha fatto il militare avevano infetti in amianto avevano le coibentazioni in amianto e io per fortuna non mi è successo niente eh sì mi dice una cosa tremenda ancora peggio perché ma da tonde era poco conosciuta beh adesso sono bonificate che non ci sono molti anni fa sono state le prime cose bonificate nel 90 un bel esempio per capire che l'amianto era ovunque sì non era solo qua ma infatti l'amianto era ovunque e la cosa peggiore è che si sapeva benissimo che l'amianto come per l'orano impoverito come cose di questo genere si sapeva benissimo che l'amianto era deleterno eppure come al solito zitti zitti non parlatene non c'è mai stato una vera campagna di stampa nazionale su queste cose un vero risveglio popolare non c'è mai stato perché tutto a tacere tutto segreto perché c'era c'era qualcuno che doveva guadagnarci su è stato uno degli schifi dell'italia del di tutti questi decenni purtroppo prego che cosa ne pensa di questo parco ma soprattutto come mai accettato di cantare all'inaugurazione parco e conosce la storia dell'eternit fabbrica della morte quello conosco perché me la sono riletta tutta in questa settimana conosco anche chi è stato usato e come quanto tempo è riuscito qua prima accuse l'appello e la cassazione tutto quanto e come sempre succede si tira il lungo e si riesce a salvare le persone che non dovrebbero essere salvate questo è altro dramma dell'italia sono tutto qui per questa e d'altra ragione casale per un po di nostalgia di commozione di ricordo poi perché a me piace moltissimo cantare nei posti non grandissimi cioè nei paesi che hanno una storia paesi grandi che hanno casale quasi una città che hanno una storia loro e hanno tradizioni e sono ancora belle per tanti motivi hanno un passato che è ancora presente ecco queste cose che mi piacciono in italia per fortuna ce ne sono soltanto i posti così e quindi l'ho accettato con piacere poi questo particolare spettacolo è uno spettacolo sulla felicità e quindi mi serve credo molto a casale oltre che a me è uno spettacolo che parla di come ho spiegato la felicità ai miei figli e come ho tentato di dirgli che non bisogna abbattersi insomma che anche quando non la vedi c'è insomma c'è nelle persone c'è nel futuro se no se uno si abbatte finita voi avete un sindaco coraggioso che è riuscito a estirpare anche dei soldi a Renzi anche se sono bloccati la prima o poi uscire e quindi c'è un bel coraggio una bella forza ci ha mandato delle belle parole appunto dicevano prima la stampa potrebbero diventare in un futuro una canzone c'è questa verità non tema forse preciso della canzone ma parte del tema di una canzone perché quello è un tema di canzone cioè dà benagino anche la crudeltà umana e anche concia di quello che avviene perché quella è la drammaticità e per quello che sono criminali perché sono assassini perché lo sapevano perché uno fosse inconscio e io ho messo l'inconscio nell'articolo anche se qualcuno è inconscio mi spiace ma quelli sapevano benissimo come andavano a fare e il tema della canzone è quello voi che sapete insomma è proprio quello il tema e vi nascondete e quindi il casale rientra come altri posti come ho detto come il fango di Genova dove si costruisce come purtroppo le case mal costruite non per colpa dei cittadini chiaro in appennino e sono tutte provocazioni dovrei dire del capitalismo ma lo dico perché in realtà sono colpe del capitalismo queste io ho in mente una sua canzone che si può adattare che racconta molto della storia dei casalesi e dei monferrini che hanno vissuto la tragedia dell'amianto ho conosciuto il dolore si quella è parte da me ma poi appare per tutte le persone ed è una canzone che è stata scritta soprattutto per le persone che stanno male i terminali per dire che siamo così grandi noi uomini che non dobbiamo mai assolutamente mai lasciare spazio alla frenesia del dolore il dolore è molto inferiore alle capacità umane di batterlo si riesce sempre in qualsiasi modo e non ci si accorta col dolore non si fanno patti si dice semplicemente io sono superiore a te non credere a battermi soltanto perché mi fai star male crede che questa comunità ce l'abbia fatta? io penso di sì ma anche altre comunità ce l'hanno fatta che conosco che sono andato a visitare e anche soltanto con i propri mezzi questa è la cosa anche sconvolgente se dico la verità perché nessuno si mette in testa a Roma o da qualche parte di venire ad aiutare ah guarda quel caso la bisogna metterlo un primo no bisogna proprio avere dei vigilantesi interni che vadano a svegliare i sonnolenti e questo non cade solo per casare crede che il parco sia un'idea efficace per dimostrare che dalla morte può nascere qualcosa di nuovo dalla vita? crede è che è una metafora meravigliosa e perfetta no? stritolare il cemento e l'amianto e far crescere l'erba, il prato, i fiori, le piante sono giustissime un monumento vivente vegetale è molto meglio di un monumento fatto di marmo o altro perché qui questo è la vita vuole vivere questo è un mito meraviglioso, è proprio un mito greco questo il mito dei giardinetti di Adone muore Adone però le siracusane tutte le donne della Magna Grecia lo piangono in un periodo preciso dell'anno quando nasce la primavera perché vengono fuori le piante e tutte le donne di Siracusa che sono naturalmente dori che sono della Magna Grecia mettono sui loro terrazzi dei vasi di fiori e di piante per esorcizzare la morte del dio della bellezza del sole che è stato ucciso come l'umanità è uccisa dal cemento e dall'amianto e lei come utilizzerebbe questo parco? attraverso quali iniziative ci dia delle idee? questo può fare tantissime cose, soprattutto d'estate a parte i concerti, a parte le serate da ballo non l'ho ancora visto ma abbiamo l'orditorio qui dietro le nostre spalle questo parco è una cosa molto simbolica quanto conta secondo lei un simbolo da parte... per combattere appunto il dolore io credo che i simboli siano fondamentali nella storia dell'umanità senza simboli non andiamo avanti se noi vediamo soltanto al dretto, al pratico non siamo all'altezza della nostra grandezza d'uomini i simboli ci fanno sopravvivere, anche i miti ci fanno sopravvivere non vado nemmeno a pensare se un mito è vero o trasformabile in realtà un mito mi dà un sacco di coraggio e di forza anche tantissimi credoreligiosi si fondano sui miti e noi ci crediamo profondamente a questa mitologia perché essere mitopoetici, saper creare miti è soltanto degli uomini come creiamo favole, pièce teatrali, cinema grandissimo, arte straordinaria sappiamo creare anche i miti che sostenono tutto questo Per il concerto di stasera hai in mente qualcosa di particolare? No, è un concerto sulla felicità ne parlerò anche, racconterò anche qualche tratto del libro mio che infatti si chiama così la vita che si ama storie di felicità e sono tredici lettere ai figli su questa felicità tredici lettere improntate a una decina di canzoni che ho scritto per loro molto sconosciute tra l'altro a parte un paio le altre sono sconosciute e le canterò stasera che canterò naturalmente anche altre cose che comunque hanno una specie di speranza alla fine perché naturalmente per arrivare alla speranza e al tentativo di ribaltare una situazione ci vorrà anche il dolore non è che noi viviamo in qualcosa di piatto la nostra vita è andare su e giù e quando siamo giù dobbiamo tornare su il giù è il dolore e il su è la gioia dobbiamo fare così e gli amici che saranno con lei ci saranno? poi di quelli che si diceva forse avrebbero partecipato al concerto questa sera questa sera verranno degli amici spero che ne vengano anche da più a ovest perché ne ho tantissimi in provincia di Cuneo ad Alba, ad Asti spero che ne vengano tanti poi ci sono i miei musicisti che sono i miei amici che sono bravissimi e poi veramente ogni volta che vado in un posto che mi solletica l'emozione e la curiosità sono felice di poter cantare ci sono posti un po' più nebulosi io poi riesco a essere felice sempre però particolarmente nei posti in cui mi trovo in sintonia con la gente, con i combattimenti, con le lotte e con la gioia di vivere entrando in Casale ho visto un mercato, un mercato dell'antiquariato le giostre che bello, la domenica così tutti quanti fanno qualcosa ma si ferma qui questa sera? no no, torno a casa io non riesco a fermarmi ho tante cose da fare il teatro domani, il teatro domani ancora poi devo andare in Calabria in Sicilia è molto lunga la prossima volta che verrà a Casale la invitiamo a venire al nostro liceo liceo classico questo mi farà molto piacere in quanto c'è un'aula speciale della nostra scuola in cui durante l'anno i ragazzi che hanno partecipato a un incontro formativo precedente l'anno scorso si impegnano a divulgare materiale informativo a chiunque lo desideri e per di più disponiamo un sito che è costantemente aggiornato di notizie e di testimonianze e l'indirizzo è www.amiantoasbesto.it e fino ad ora sono stati moltissimi coloro che sono venuti a trovarci e aspettiamo sicuramente anche lei poi ma certo a parte che non è l'ottanta Milano quindi non è problema ci mettiamo d'accordo con il sindaco vediamo fare una visita al liceo delle due parole sì sì io invece vorrei parlare del suo ultimo libro il suo ultimo libro che tra l'altro dà il titolo anche a questo tour certo che è partito lo scorso mese di giugno e che la sta portando in tutte le piazze nei siti archeologici abbiamo visto piazze bellissime ecco lei ha definito questo libro il più autobiografico sì certo perché è dedicato ai suoi figli è autobiografico perché ho raccontato ai miei figli degli episodi piccoli anche mica successi o vittori o premi esatto esatto non si parla di premi non si parla di premi non si parla di un'autometria particolare non si parla soltanto di quelle piccole cose che fanno la vita che sono di tutti quegli aneddoti che fanno anche ridere a volte sono ridicoli ma che in realtà dal piccolo poi si espande l'umanità l'umanità di un piccolo atto di una piccola azione di un piccolo incontro di alcune parole che sembrano al momento nemmeno tanto importanti invece poi a distanza di tempo vedi che si sono allargate hanno fatto una macchia d'olio sono diventate molto di più perché io sostengo da sempre che l'umanità più bella è quella normale non quella eccezionale in questo libro c'è una bellissima teoria sul tempo che sembra quasi un grafico ed è formato da un tempo orizzontale e da un tempo verticale basterebbe scegliere di vivere il tempo in maniera verticale come i bambini i geni pazzi come lei li ha definiti ma non è facile noi siamo completamente assorbiti dal tempo orizzontale cioè passato presente futuro vediamo il tempo scorrere abbiamo paura del passato i ricordi sfuggono il futuro puri ci fa paura invece il tempo verticale è prendere coscienza della propria capacità di batterlo il tempo il tempo verticale è un tempo dell'anima non è un tempo che scorre è un tempo che ti rimane direi fisso dentro passato presente futuro sono incolonnati e io dopo tanti anni so trattarlo questo tempo perché i miei ricordi non sono lontani sono vicinissimi sono con me mia madre le persone che ho perso tutti vicini anche gli amori gli amori sono tutti costantemente dentro di me anche il futuro lo vedo lo sogno lo penso in modo che mi sembra quasi presente questo è un modo per non aver paura né di guardarsi dietro né di guardare davanti Roberto Vecchione ha scritto canzoni bellissime grazie e ha scritto anche tanti libri anche canzoni bruttissime ma lei piace di più scrivere o scrivere e cantare canzoni? no il mio mestiere è scrivere canzoni mi piace scrivere però io sono nato canzonettaro o come dicono cantautore è il mio genere il mio genere è fare in 4-5 minuti una sintesi con alcune immagini poi Dio mi ha dato questa facoltà questa capacità di scrivere velocemente e facilmente per cui un libro anche in un mese, due mesi riesco a scriverlo perché è quasi alla prima stesuna anche perché ce l'ho tutto in mente già però è una fortuna questa non è merito mio io ho tentato di aumentarla leggendo tanto tentando di avere una cultura buona parlando con tutti e insegnando per 40 anni perché dai ragazzi si apprende tantissimo e però il merito non è mio dei geni di mio papà e di mia mamma so che lei insegna latino e greco che cosa ne pensa del fatto che oggi siano in molte a credere che queste due lingue siano morte e quindi inutili voglio dire io da alunna io da alunna mi accorgo che più procedo avanti con gli studi classici e più questi mi aiutino a ragionare, approfondire ed apprezzare il valore delle cose certo che è una bella sfida oggi si è una sfida ma un altro non ti capirebbe cioè se tu fai un discorso di questo tipo a una persona qualunque diceva a me non serve a nulla e invece Gramsci che era Gramsci che era un linguista oltretutto diceva